Nome? Marco. Nome? Porculo. Quando sei nato? Nel 97. Da quanto bimbi? Suggerimento. 15? 15 anni. Cosa fai nella vita? Niente. Perché per questa intervista? Perché me l'hanno chiesto in molti, veramente sono entrato nella pagina ufficiale di Facebook e quindi lo faccio. Cosa volessi fare? Quello che vorresti fare tu. Faccio un urno. Bella Pendro! Cosa le pensi del Parlamento Italiano? È una merda. Anteprime sui progetti del canale. Allora, ci sono tante anticipazioni, voglio chiamare il mio partner. Comunque, i progetti del canale sono una nuova serie. Sveleremo... La porta a Paua. Sveleremo i misteri che nessuno... Paua, non Paua. Sveleremo i misteri che nessuno ha avuto il coraggio di svelare, ad esempio, la stupidità umana. Ah, un limite? No. Depiti un personaggio pubblico? No, perché non mi conosce nessuno. Tu mi conosci? Bella, adesso ci conosciamo. Comunque, penso di... e spero soprattutto di stare sul cazzo a molta gente, quindi più che pubblico mi voglio reputare un personaggio pubblico. Mezzo di trasporto? Preferito. Noever, noever... Credi in Dio? No. Sno. No. Cosa pensi della comunità di YouTube? Beh YouTube è un grande mezzo di telecomunicazione di massa Ove molta gente può farsi conoscere Dire la propria Dato che in televisione non lo può fare E soprattutto è molto utile per chi non sa fare qualcosa col computer E ci sono dei video tutorial Cosa pensi della community di YouPorn? La community di YouPorn Come ho detto in precedenza È strutturata molto male Cioè io non sono ancora un utente premium Come no? Mi pensa che si Faccio un saluto Bello Faccio un insalato È finito La mano è scumato La mano è scumato Oh sangue Televisi Scuze S-a chiamato il cuore tu Amano come? Amano come? Amano come? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.